Il Consiglio Comunale di Arezzo si riunirà in una seduta straordinaria e aperta a tutta la cittadinanza per discutere della legge regionale che riorganizza la sanità. Martedì 1 dicembre a partire dalle 16 tutti i cittadini sono invitati a partecipare insieme alle istituzioni locali per manifestare la propria contrarietà a un disegno che secondo i promotori dell'iniziativa mette a rischio la qualità del sistema sanitario regionale. Quello del Consiglio Comunale di Arezzo ritengo che sia un'opportunità dei consiglieri comunali un'opportunità per tutti i cittadini per parlare di quella che sarà la nuova proposta di legge, la 33 di verificare se realmente quella legge, quella nuova proposta andrà a modificare quella che era la vecchia legge 28 e soprattutto per verificare se magari si è cercato in modo frettoloso, se possiamo dirlo di andare a modificare una legge, la 28, per cercare di evitare quello che era magari l'opportunità dei cittadini del referendum abrogativo. Sullo sfondo la possibilità che le modifiche presentate in autunno dalla giunta regionale possa rendere di fatto obsoleta la proposta di referendum abrogativo rendendo vana la raccolta di 50.000 firme in tutta la regione di cui oltre 10.000 solo nella provincia di Arezzo. Deve essere un momento soprattutto per cercare di creare un parere, forse una riflessione che debba essere poi portata anche dello stesso nostro sindaco, dello stesso nostro consiglio comunale anche da mia persona, nei luoghi ritenuti opportuni perché da qui al 15 dicembre c'è veramente poco tempo per cercare di andare o a cercare di creare un parere laddove ci sono delle lacune a questa nuova proposta di legge.